Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti a questo nuovo episodio Allora, ragazzi, è più di mezz'ora che si aspetta il pullman e mica passa, sono qua alla fermata Porca trota, ho chiesto a un coniglio se... a chi la passava, non lo sa Ah, eccolo lì il coniglio, guardate Ma mi sa che è scemo, qua è più di mezz'ora che aspetta, ragazzi, non passa nessuno Vabbè, va da piedi, va Ok, intanto ero vicino Bene, ragazzi Allora, sono successi due, tre, quattro, cinque patatrack Cosa è successo qua? Un mezzo... guardate che bug, ragazzi, ogni tanto cambiano i colori Mamma mia Allora, il primo, ragazzi, ho spostato tutto l'ambaradam, guardate Ora è perfetto, ve l'ho detto, bastava solo spostarlo Ora è veramente perfetto Abbiamo fatto un casino di roba E... dicevo, sono successi due o tre patatrack Allora, ho aggiunto una mod Una mod che aggiunge nuovi macchinari, che a noi non servono tanto Ci serviranno, ragazzi, avanti, molto avanti, molto più avanti, molto Quando faremo il reattore nucleare, sono questi qua Pagina 10 Ecco i telechi Tutti questi qua, guardate Sono tutti nuovi Sto ancora provando la mod, ora io vi passerò il mio pacchetto, così com'è Però non so se questa mod funziona bene, perché... come vi ho detto, mi è successo un patatrack Allora, ho cambiato il pavimento Ve ne siete accorti, vero? Haha, ho usato il mercurio e il gula solito, lì Come si chiama? Questo qua, ragazzi Però volevo fare una domanda Lo preferite così il pavimento o nero? O lo faccio nero? Ditemelo voi, eh Ditemelo voi Poi qua ho messo giusto abbellito, perché faceva schifo veramente E... che dirvi? Ho ingrandito qua, ragazzi Guardate, tata, anche te Infatti ho appena finito E devo finire ancora il pavimento Per cui, prima che lo finisco, ditemelo Ragazzi, se non vi rispondo nel prossimo episodio Perché ve lo ripeto Io a volte vi rispondo tardi Perché non è che faccio un episodio, basta, lo carico No, io ne faccio due o tre di seguito, quando ho tempo E poi li renderizzo e li carico Per cui, magari, vi faccio una domanda adesso Dopo carico un altro episodio, faccio un esempio Ma che ho registrato dopo di questo Per cui non ho ancora letto i vostri commenti Per cui, scusatemi Comunque rispondetemi se volete nero o bianco Che cavolo Ciao 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 Scendi giù Dunque, ragazzi, ho largato qua Ho fatto ancora un bel po' di Cose che riempiremo Intanto ho fatto anche quella di diamante Poi, un'altra cosa, ragazzi Guardate qui Quanta ce n'è E ho il clay in pieno Guardate, tatankete 200.000 Ho spostato qui il nostro tavolo Della Ok, ragazzi Allora, cosa volevo dire Io volevo dire che questo è finito Ma non mi interessa, guardate Non mi interessa Perché dopo facciamo una cosa Allora Permesso Guardate che è successo, ragazzi Ho giunto quella mod Guardate Che Dove è? Ah Guardate che è successo Questo l'ha appena craftato Io l'ho rimesso Sono spariti i laser E guardate il tavolo del laser Cioè, non lo fa aprire Che cavolo è successo Per cui, per quello vi ho detto Sto provando ancora la mod O va in conflitto O non lo so Infatti ho provato a ricraftarlo Me l'ha fatto mettere Ora proviamo a ricraftare un attimo Scusatemi Che poi che cavolo è sto coso MFFS Injun Upgrade E che me ne faccio io? Vabbè Poi li vedremo più avanti Ragazzi questi Per cui non continuate a dirmi Luke Fai il reattore nucleare Ragazzi con calma Allora Dicevando stavo Dicevando stavo Dicevando stavo Ragazzi che cavolo stavo dicendo Ah si Ora sono sbarate pure tutte le pagine qua Allora Cercavo il laser Cercavo il laser Che mi hanno rubato Me l'hanno rubato Ragazzi Mi hanno rubato il laser Mi hanno rubato il laser E io come faccio? Adesso voi mi dite Io come faccio senza laser? Allora Io giro le pagine ragazzi Voi ditemi se le trovate Ditemelo Ditemi se le trovate Niente Ok vado avanti Vado avanti Vado avanti Ma porca trota Guarda dov'è Guarda dov'è Allora Se obsidiane È un coso di diamante Non è già andati Perfetto Allora Allora Non abbiamo diamante Allora Non abbiamo diamante Ma Abbiamo questa roba Ci servono Abbiamo detto Cinque diamanti Giusto? Io prendo un blocco E non se ne parla più Tankete Ok Piazzichiamoli a posto Piazzichiamoli a posto Ok Allora abbiamo detto Abbiamo detto Un coso di diamante Guardate ho messo la crafting Eccitelo qui Poi un diamante singolo Giusto? Si Sei obsidiane Ossidiane Come cavolo si dice Esce Ok 1,2,3 7,8,10 Un diamante Poi cosa c'era? Dove cavolo è? Un pezzo di redstone Perfetto Perfetto Un pezzo di redstone Lo mettiamo qua Abbiamo il nostro tavolo Vediamo un po' Se mi fa ancora quel bag Già io e te Non andiamo d'accordo Ok Già te l'ho detto Vediamo un po' Ta anche te Oh ragazzi E' rimasto E' rimasto Ma mi è sparita Tutta la roba che c'avevo dentro Brutto ladro Brutto ladro Porca trota Adesso come faccio io? Come faccio? A me servono i cosi Questi qua Adesso con un laser Farò tanto io Si si Vabbè poi che fatterò gli altri Ragazzi Dovrei provare A riavviare Minecraft Per vedere se sparisce ancora Ok Ok eccomi qua Disattiviamo i rumori Disattiviamo i rumori Con F7 Perfetto Ragazzi è rimasto Bene Allora non so che cavolo Era succeduto Ah vorrei dire una cosa ragazzi Alle persone più intelligenti di me Alle persone che mi guardano Molto intelligenti Che io quando sbaglio l'italiano Mi invento le parole L'inglese O altre lingue Lo faccio Apposta Ah Ah Allora carichiamo sto coso Che mi sta dando fastidio Si mo ti carico Dai zitto Zitto Finchè non mi fai gate Non posso fare niente Perfettico Allora Carichiamo questo Abbiamo detto Un bel 92.000 Allora Dicevano stavo Cosa facciamo oggi? Pensiamoci eh Pensiamoci Intanto qua va bene Oh ma perché Sto cavolo di baggo Allora Senza sbattere Che è successo? Che è successo? Vai Sei zitto adesso Muto Questo è Due milioni Allora Ah intanto ragazzi Grazie per avermelo detto Ho fatto malo Tanti casini Qua sotto c'era il filo scollegato Quando ho messo Il wireless redstone lì Era scollegato l'altro filo Ragazzi Ho sistemato tutto Tranquilli Ho sistemato tutto Guardate Quanti me ne ha fatti E me ne sta continuando a fare Poi Ho pensato una bella cosa ragazzi La legna La legna È inutile che mi faccia questi qua Se no ci riempiamo troppo Giusto? La legna L'ho messa qua Tanchete Ora è il tempo che finisce di riempirsi E poi andrà a bruciarsi Che ne dite? Riempiremo di più i nostri cosi Infatti qua ho cambiato Se volete farlo anche voi Ho messo la legna Insieme alla legna E l'ho tolta di qua Ok Perfettico Cosa fare oggi ragazzi? Allora Prima di tutto Andare a controllare il query Che mi sa che ha finito Mi sa che ha finito È notte E io faccio la nanna E' chi c'è chi? Allora Allora La spadignola in mano E' chi te lo chi? E' chi te lo chi? Oh La spagna d'oro Dammela Si sta trasformando Ha ha Ma manco una volta L'ho beccato Lì c'era un altro Mi fanno ridere questi Quando gridano ragazzi Ciao Ok basta Basta perdere tempo Andiamo a controllare il nostro query Ah si intanto ho messo anche i vetri Vabbè Così che non c'entrano niente Allora Andiamo a controllare il nostro query Che è questo qua Giusto? Quello grande Si Che cavolo è successo? Allora Quanta roba c'è intorno Allora Ragazzi Oggi Ho in mente Un altro oggetto Minecraft Ok ragazzi Guardate Tutta 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 Siamo arrivati alla bedrock Quanta bella roba Allora ragazzi Cosa voglio fare oggi? Un oggetto nuovo E poi torneremo qua dal query Anzi Prima di tutto Iniziamo a far partire il query Facciamo un altro cosa Facciamo un altro cosa Allora Ciao Venite qua Facciamo partire un nuovo query Dove è? Qua Dove lo facciamo? Allora Ci serviranno i cosi blu Azzurri Ok Eccite le chi Dove li mettiamo? Dove li mettiamo? Dove lo facciamo ragazzi? Dove lo facciamo? Qua di fianco? Che ne dite? Che ne dite? Allora Uno Buttiamo giù pure quest'albero Che mi interessa a me Facciamo qua Giusto? Giusto? No? Facciamo addirittura superare ragazzi Lo facciamo non grande Di più Continuiamo di qua Di qua Di qua Di qua E Non va bene Non va bene Perché non deve scendere Allora Allora qua Ok Deve mantenere quest'altezza ragazzi Questa altezza Ok Lo facciamo qua Si verrà un po' una cagata ragazzi Ma non mi interessa Tanto ve l'ho detto È giusto per raccogliere materiali Non voglio fare il mondo bello Allora Mamma mia Mamma mia E scendi su Ecco Ecco Il rinoceronte qua Che non ci passa neanche Ok Allora Allora Tankete Tankete Perché non va quello? Perché non va? Scusate Ma che pirla ragazzi Non dovevo metterlo lì Che pirla Non dovevo Metterlo qui Pirletta Dovevo metterlo Qua Hai ragione anche te Hai ragione anche te Allora Staccati un attimo Abbiamo detto Qua però Lo facciamo staccato di uno Va E poi Continuiamo questa riga Tankete Scendiamo Scendiamo Dobbiamo salire di uno Ricordiamoci Qua Ok Dovrebbe essere giusto Vediamo Perfetto Perfetto Allora Mettiamo il nostro query Subito 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 Tankete Recuperiamo la roba Ragazzi oggi Mi servono Mi servono Due No due Tre dark matter Tre dark matter Già state ridendo Lo so Allora Mi servono Tre dark matter Intanto che parliamo Due diamanti E Poi vediamo Poi vediamo Perché mi serve un attrezzo Ragazzi Che è veramente Stupendissimamente Stupendo Veramente Stupendissimamente Stupendo Ve l'ho già detto Allora Qua facciamo Così Uno False Poi Questo qui Qua Eh sì Uguale dai Mettiamo Due Due Partito Affondato Bene Andiamoci a una casa va Andiamoci a una casa Allora Cosa fare Cosa fare Facciamo Una cosa Bella 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 Facciamo Una cosa Bella 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 Intanto Andiamo a vedere Se ho fatto Qualche diamante Qua Faccio prima Correre Avrà fatto Qualche diamantuccio Eccolo Qui Eccolo Qui No Perché sono uscito Pirletta Pirletta Che non sono Altrico Non dovevo Uscire Vabbè Ragazzi Ragazzi Guardate Un dark matter Mi ha fatto E un diamante Non ci credo Non ci credo Cavola il mare Non ci credo Ma ha già fatto lui Un dark matter Bene Ce ne servono due Ce ne servono due Ragazzi Due 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 dark matter Due dark matter Uno anzi Uno Uno Ah 139.000 Ci siamo arrivati Me ne serve Uno Qua che c'è Eeeh Eeeh 8 Ok Ok Vedete ragazzi Adesso si inizia un po' Più a ragionare Di più Allora 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 Mi servirà Mi servirà Dove cavolo sto andando Qua Allora Abbiamo detto un dark matter Eccitelo qui Mi serve Mi serve Quanti diamanti Riusciamo a prendere 6 7 Me ne servono ancora 9 10 11 11 Siamo a 7 Abbiamo 4 diamanti Ragazzi La precisione Non è acqua Dai Dai Allora Un blocco di diamanti Giusto Me ne avanzano due Perfetto Dark matter Ottimo Dark matter Dark matter Dark matter Diamanti Ragazzi Tata anche te Dark matter Pickaxe Il piccone Di dark matter Come funziona Anche lui si ricarica Andiamo fuori Vi faccio vedere Andiamo in un posto Ah Dove l'ho costruito D'altra volta Giusto Bravo Luke Bravo Dove cazzi Mi hanno costruito D'altra volta Ah Ah qua 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 Ma ha nevicato Avete visto Guardate ragazzi Ha nevicato Allora Allora Come funziona Questo piccone Ragazzi Con la V Si aumenta Poi con la G Si cambia Con la G Non si cambia Con la G Non si cambia Con la C Scusate La C di Torino Allora Guardate Tool 1 standard Vuol dire che ne spacca 1 alla volta Guardate com'è veloce Basta un colpo Un mezzo colpo Poi Il 3 Guardate Il 3 Ne spacca 3 alla volta In orizzontale In verticale Che cavo sto dicendo Guardate Anche lui ci rilascia La pallina Con il drop Poi Vediamo un po' Che fa La C 3 Per così Guardate 3 in orizzontale Poi 3 per il lungo Per il lungo Vuol dire così ragazzi Guardate Tanchete E poi 1 standard Perfetto Vi ho fatto vedere Come funziona Più o meno Ma qual è la cosa Più bella ragazzi Qual è la cosa Più bella Adesso partiamo al massimo Possiamo anche Depotenziarlo E Infatti ci vuole Un po' di più scavare Vabbè Non fa niente Allora ragazzi Qual è la cosa Più bella ancora Guardate Guardate Avete visto Guardate Bello Vi piaciuto No scherzo Andiamo dal nostro Quarry di prima Vi faccio Vedicere Intanto mi accendo Una sigaretta Anche se non fumo Ok scusate Non stavo guardando Allora Voi dite No Luke Scava intorno Prenditi quella roba Sì ragazzi Ma io aspettavo Questo attrezzo qui Perché secondo voi Io adesso vado qui E faccio così Sì E quanto ci metto Ragazzi a scavare Tutto il contorno No Guardate come si fa Guardate Andiamo Vogliamo il copper Basta cliccare Con il tasto destro Tata anche te Dove è finito Ops E qui Dieci copper Ce ne erano dieci Uh oh Ferro Vediamo un po' Quanto ce n'è di ferro Quanto ce ne erano Sei Con questo non funziona Guardate Solo con la La patita Lì come cavolo si chiama Non funziona Con tutto il resto Sì guardate Ferro Noi ne vediamo due Non sappiamo se dietro ce ne altri Tata anche te Ce ne erano altri Aha Copper Ho perso la pallina Porca trota Vabbè ormai Copper Questo è uranio L'uranio Iniziamo a farlo Ragazzi Che più avanti Faremo la centrale nucleare Ma mi serve Un casino di uranio Per cui Anche volendo Non possiamo farlo Carbone Uranio Mi piace Questo attrezzo Eh ragazzi Aha No ma perché Tutto sto perdendo Tutto Stanche te Basta stare fermi Ci viene addosso lui Ok Tin Carbone Ferro Questo è silver Eh ragazzi Che storia Senza prendere troppa roccia Che non serve a un cavolo Prendiamo solo Quello che ci serve Anche te Dove è finito Qua Che bello Che bello Questo attrezzo Allora Qua Qua Facciamo un bel po' Di carbone Ora ragazzi Andare Nelle caverne È un attimo Un attimo Guardate Ci ho preso anche Quello di fianco Di dove è andato Vabbè Vabbè Tanto ne faremo Un casino Ma come cavolo è Che ogni volta Che mi giro C'è qualcosa Prima non c'erano Ragazzi Ma mi prende in giro Ma sono cose Che non ho visto io O mi sta prendendo in giro Rinascono Con il tasto destro Ricordatevi Ok C'è un bel po' di carbone Ferro Ferro si prende sempre Il ferro È sempre benvenuto Il carbone Si può anche Lasciar stare Bene Perfetto ragazzi Vediamo qua Il query Che sta combinando Sta già iniziando A scavare Guardate ragazzi Ora siamo pieni Quasi No? Se io per dire Non ho voglia di andare a casa Potrei fare In questo modico La nostra Ender chest La nostra Ender chest Stavo dicendo L'ho persa Ok Così iniziamo A smistare un po' di roba Guardate È vuota la chest Perfetto Oh 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 Allora Mettiamo via questi Perché Così Il tempo che andiamo a casa Sono già Belli smistati Preparati Questo non so che cavolo Ebbia Buttiamolo là dentro Questo qua Piccone E l'uragno Perfetto ragazzi Abbiamo finisciuto Ci riprendiamo La nostra chest E ce ne possiamo Andare a casa Ora il tempo Di andare a casa E la roba Gli ha smistata Che bello Questo piccone Mamma mia Che bello Questo piccone Ragazzi Che bello Che bello Che bello Che bello Niente Ho visto una cosa strana Ma niente Alberini sta facendo Tantissimi Ok Andiamo a vedere Ottimo Si è bloccato Ottimo Perché si è bloccato Ve lo dico io Guardate No Stavo scherzando Ma che cavolo Le succede Aaaaa Ragazzi Devo fare altri di questi Io devo farne Assolutamente Altri di questi Dico Sempre li devo fare E non li faccio mai Ma scusate Ma di qua Ah beh Erano tanti Erano tanti Erano tanti Avete ragione Bene ragazzi Vi ho fatto vedere Un altro attrezzo Il piccone stupendo A mio parere Ok Ho sistemato un po' Ma vorrei fare una cosina Prima di finire il video Vorrei fare una cosina Vediamo un po' Se riusciamo Vediamo un po' Se riusciamo Quanto c'è 10.000 Che me ne faccio Di 10.000 Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Che mi serve Mi serve No Ah perché ho fatto Vabbè poi lo sistemo Vabbè lo sistemo subito Dico poi lo sistemo Però non lo sistemo più Terra Mettiamo la terra Terra Ok Perché quando ho fatto Il pavimento Me l'ha fatto tutto Ricordatevi di rispondermi Niente ragazzi Volevo fare un altro Volevo ingrandire un po' C'è ingrandire Potenziare un po' qua Ma non abbiamo abbastanza roba Qua ne abbiamo 10 Continuo a fare Per cui Che dirvi Che dirvi Che dirvi Il coniglio dove è finito Andiamo a vedere di qua Che è successo Sì Ancora il primo questo Ah no Me ne ha già fatti due Me ne ha già fatti due Me ne ha già fatti due Me ne serve uno Sinceramente Me ne serve uno Mi serve del filo Del filo Del filo Vediamo un po' Allora Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa Del genere Allora 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 Facetemi pensare Facetemi pensare Poniamo il caso che Poniamo il caso che Io questo lo metto qua Tancate E dico che Quando è pieno Quando è pieno Così Si deve accendere la redstone Vediamo un po' Vediamo un po' Come cavolo faccio A farla riguare Là adesso Come diavolo faccio Mi servono Mi servono I tubi Ne abbiamo solo uno Ne abbiamo solo uno Perfetto Più che volete Più che sufficiente Più che sufficiente Allora Facciamo così Più che sufficiente Un paio di scatole Devo farne un altro ragazzi Lo faccio a me Anzi lo faccio insomma a voi Tanto sicuramente qualcosa sbaglierò Allora Vediamo se ci ricordiamo Se avevo la cobblestone E la gravel Giusto? Giusto Ho sistemato un po' le ceste Intanto Facciamo un'altra Ok Allora Cobblestone Vetro Ce ne fa 8 8 Con la gravel Ce ne fa 8 Perfetto Ce ne fa 8 Adesso Adesso Facetemi pensare Se io tolgo Questa leva E ci metto Questa roba qui Non arriva Vediamo un po' Invece di fare così Mettiamo così Proviamo a farlo Vuoto Quando è vuoto Voglio che si stoppa Infatti non ci arriva Non ci arriva Porca trota Non ci arriva Porca ciabatta Porca trota Allora Allora Facetemi pensare Allora Facetemi pensare ragazzi Facetemi pensare Per favore Se io lo metto qua Facciamo così Ok Vedete Quando è vuoto Lo si spegne Perfetto E cosa mi serve Mi serve La redstone Quella rossa Ne abbiamo 4 Ne abbiamo 4 Solo 4 Allora Ne abbiamo 4 Perfetto Così E la redstone Non si accende Porca trota Porca trota Così Non si accende Come diavolo Come diavolo Faccio Come diavolo Faccio Come diavolo Come diavolo Faccio Così Minecraft Non rompere le scatole Allora Allora Forse Forse Non abbiamo concluso niente Forse Forse Perché Così Perché non si stoppa il timer Perché non si accende questo Perché non si accende questo Perché sono un pirlaio ragazzi Perché sono un pirlaio Perché sono un pirlaio Sono un pirlaio Me ne serve un altro Me ne serve un altro Me ne serve un altro Ecco perché non si accendeva Pirletta Pirletta Credo ragazzi Non sono sicuro Allora Facciamo così E facciamo così Facciamo Ok Così E così E non si accende Porca trota Non si accende E se invece faccio così Allora Proviamo in altro modo Ragazzi Ultima prova Ultima prova Permesso Ultima prova Uno Due Tre Ultima prova Uno Due Otto Ok Allora Allora Ultima prova Ultima prova Se io dico che Stacco questa roba qui Vediamo un po' Senza questa redstone Cosa viene Aia Aiuto No Aiuto Non voglio morire Non voglio morire Sto laggando Sto laggando Sono morto Sono creputo Mi sono salvuto Mi sono salvuto Ragazzi Cosa ho combinato Cosa ho combinato Porca trota Cosa ho combinato Ora di qua Continua a uscire l'ava No Dite di no Sì Porca trota Sì Come faccio Come faccio Come faccio L'hai finito il tubo Si è mangiato il tubo Si è mangiato Il tubo Si è mangiato il tubo Porca trota Come faccio Come faccio così Come faccio così Facciamo così Va a farti fottere Vai a farti fottere Porca trota Ragazzi Porca trota Me la sono vista brutta Me la sono vista brutta Ok Allora Dicevando stavo Dicevando stavo Che l'ho messo storto Mi serve la ruence La ruence Lo giriamo Perfetto Ora Gli mettiamo Landgate Porca trota Landgate Poi li mettiamo Questa redstone qua E va a farti fottere Vediamo un po' Vediamo un po' Sì Non mi interessa Che si collega lì Non mi interessa proprio Non mi interessa proprio Vediamo un po' Ok Vediamo un po' Mettiamo Quando È così Per il momento Si deve accendere E si stoppa Oh Così lo volevo ragazzi Così In che senso Adesso qua possiamo regolarlo Quando come vogliamo noi Quando è pieno Quando è quasi pieno O quando è totalmente pieno Io voglio metterlo Che quando Diciamo che è così Mezzo pieno Diciamo Si accende la redstone E si stoppa Così non consumiamo energia Per niente Vedete C'è un po' di redstone Dentro Di Di lava Però Ci conviene farlo Quando è pieno Questo punto Quando è pieno Voglio che si stoppa Che ne dite Oh Porca trota Porca trota Così era Era così Oh Abbiamo finisciuto Abbiamo Finisciuto Ora ragazzi Volevo fare una cosa Del genere I pannelli solari Come si fanno Che non mi ricordo più Allora Generatore Due electronic circuit Vediamo un po' Se riusciamo A fare una cosetta Bella bella Allora Generatore Me ne servono 8 Se riusciamo a farne 8 Allora va bene Mancano 4 redstone Come mancano 4 redstone Ti sei l'imbicilluto? Ti sei l'imbicilluto? 4 redstone 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 Dai Giochino Tu ne vuoi 4 Io te ne do 23 Vediamo Qua Qua Eeeh Quanti me ne ha fatti Allora Abbiamo detto 8 Generatori 8 Ce la fa Ok 8 generatori 8 per 2 16 Electronic circuit Vediamo se ce la fa 16 Electronic circuit Mancano Mancano 13 redstone Ma mi prendi per i fornelli Fammi capire Mi prendi per i fornelli? Ok Ok Petri Qual Gold dust Non ne abbiamo Solo 9 3 6 9 Me ne servono un bel po' Abbiamo 41 di questi Per cui Per cui Maceratore Maceratore Possiamo fare direttamente qua Direttamente qua No questo è Estrattore Che cavolo sto dicendo Maceratore Ok Il tempo che finisce lì Dicevamo Così Così Non abbiamo vetro Porca trota Non abbiamo vetro Ok Allora Dicevamo Il vetro così Giusto? Vetro Equal dust Equal dust Stanno andando qua Logicamente Ma di qua non partono Perfetto Allora 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 Vediamo un po' Al contrario Te pareva E te pareva Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 Ce l'abbiamo fatta ragazzi Perché ho fatto 8 solar panel? Ragazzi Logicamente 8 solar panel Come si dice Contengono Fanno un bel po' di corrente Giusto? Ne fanno veramente un bel po' Pensate Se invece di metterne 8 Ne mettiamo solamente uno Come? Così Eccoti le chi Gli HV Gli HV si fanno No scusatemi Gli LV I più piccoli Ci serve un LV transformer Che si fa 3 copper Perfetto Allora Adesso vi spiego il tutto ciò 3 copper Abbiamo detto 2 di quelli E 3 copper No di quelli Ne servono 4 Mi sa O 2 Boh Io ne prendo 4 Legno ne abbiamo Allora Così Ne servono 2 Allora Così Si Ce la farò Perfetto LV transformer Guardate Tankete LV solar array Questo qui ragazzi E' un pannello solare unico Ma contiene Fa corrente Di 8 pannelli solari Se invece faremmo questo Contiene Fate conto che Ogni di questo Sono 8 pannelli solari normali Per cui dobbiamo fare 8 per 8 E' come se fossero 64 pannelli solari Se invece facciamo questo E' come Scusatemi questo E' come se Ogni MV Sarebbero 64 pannelli solari Per cui dovremmo fare 64 per 8 Cioè voi rendetevi conto Con uno di questi Illuminiamo mezza mappa Come minimo A noi per il momento Ne basta uno Se non riusciamo a fare due Forse è anche meglio Ok dovremmo farcela ragazzi Allora intanto Facciamo così Così E legno Perfetto LV Transformer Poi facciamo 8 generatori Com'era? 8 generatori Questi qua I coal dust E il vetro Al contrario Ma porca trota L'ho appena fatto Ancora al contrario Gli ho messi Porca trota Sicuramente non basta Il vetro E te pareva E te pareva Non basta il vetro Non basta il vetro Non basta il vetro Nessun problema Nessun problema Prendiamo del vetro Prendiamo del vetro Grazie Thank you E poi mangio Mettiamo il vetro E 4 8 Ora facciamo così E sono due Dove li mettiamo ragazzi? Dove li mettiamo? Li mettiamo Li mettiamo Dove li mettiamo? Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Qua che abbiamo 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 Ecchi telichi Ecchi telichi Allora Saliamo su di qua Di qua dovremmo uscire Giusto? Si O perchè non volo? Pirletta Allora Qua abbiamo I Quelli che fanno aria Perfetto Se noi facciamo così Così Ne mettiamo Uno qui Tankete E uno qua Tankete Ragazzi Due di questi Ci fanno Tanta di quella corrente Che neanche lo immaginate E' come se noi abbiamo 16 pannelli solari Cioè rendetevi conto Rendetevi conto Allora Siccome adesso è notte Però logicamente Non fa niente Per cui Basta 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 Scendiamo Scendiamo Ok Perfetto ragazzi Perfetto Vi ho insegnato un'altra cosa nuova Abbiamo visto il piccone Abbiamo visto qua Che quando si riempie Si stoppa automaticamente Guardate 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 Sapete perché? Perché è spenta la leva E la lava non passa Infatti Infatti Qua è fermo vero? Vabbè sta andando Vabbè sta scendendo Passiamo la lava A posto Bella la porta Porca trota Sti bug del cavolo Ottimo ragazzi Ottimo Abbiamo visto tutto Che dirvi? Vi dico che Vi dico che Dagli ok è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Asso 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 Grazie a tutti.